Hola 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 a todos e benvenuti di nuovo nel mio canale Questa è la seconda parte del video dei cold day salvi Con le ultime cosine che ho comprato verso la fine dei salvi Non so se si sentirà un pomeriggio sottofondo ma è il ventidato che c'è lì Perché io non riesco a registrare un video con questa temperatura Ho anche questa meraviglia oggi che mi accompagnerà durante un video Così mi espluzzo un po' d'acqua, ah fresco Con queste temperature estreme di deserto del Sahara avevo bisogno di pantaloncini corti E mi sono comprato due, questo qui da Bershka Che però non ricordo se erano in saldo, però era un pantaloncino carino, volevo nero così E un altro pantaloncino, questo sì che l'ho comprato in saldo da Sahara Questi originalmente costavano circa 29 euro, 30 euro, non ne ho comprato circa 30 euro Però io li ho pagati a 10 euro Un'altra cosa che avevo bisogno pure Erano dei pantaloni neri, leggeri, un po' così E ho trovato questi pantaloni, sempre a Sahara Sono leggerissimi, leggerissimi, comodissimi Ovviamente per 40 gradi che ci stanno a me non li metterò Però tra un po', tra una settimana, tra qualche giorno dovrebbero scendere le temperature Pure questi li ho pagati 10 euro fine saldi Trovati per caso costavano tipo 40 euro Un altro paio di pantaloni ancora che ho comprato Sono molto strani, non so, sono molto strani Mi piacciono tantissimo, sono grossissimi Sembrano che ne sono, non so che ne taglia sembra Questo è una taglia 32 A me sono piaciutti che i pantaloni Questi pure costavano tipo 45, 50 euro E io li ho pagati 10 I pantaloni da Sahara questi non mi piace Qui ho finito poi i pantaloni e passo un attimino a una maglietta E mi piace perché, perché sotto è così a rete Cioè c'è tipo una striscia a rete, non so se lo vedete qui L'ultima cosetta che ho comprato in saldo E' questa camicia di jeans Sempre da Sahara, Sahara Man Penso di aver guardato anche 9 euro questo 10 euro L'ho comprato a Versailles Non so se vi ricordate che a fine inverno, inizio primavera, amavo tantissimo le cose di jeans E' un'ultima cosettina che ho comprato Non era in saldo Però appena l'ho visto, appena l'ho provato Ho detto questo deve essere mio L'ho pagato 40 euro E' questo jumpsuit di Sahara Bellissimo Leggerissimo E' 100% cotone E' super super leggero E' una cosa che indosserò tantissimo Come vi ho detto questo non l'ho pagato Non era in saldo L'ho visto, l'ho provato Non l'ho comprato in quel momento Ma il giorno dopo lo volevo comprare Non c'era in nessuno dei negozi Sahara E l'ho comprato su internet Troppe chiacchiere qui e il video è finito Io vi ringrazio, vi saluto Con questa meraviglia di nuovo Così mi fresco un po' Se vi è piaciuto mettete un like E se volete potete seguire la mia pagina Instagram Che vi lascio qui Quindi non lo so più dove sia Grazie mille di essere arrivati fino a qui E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao, hasta luego